A Proderaggio è la domenica 7 agosto una tappa del concorso nazionale Ragazza, Moda e Spettacolo. L'appuntamento è previsto al Paradisia Park alle ore 21. La rassegna dedicata alla bellezza è giunta alla sua ventottesima edizione. Ragazza, Moda e Spettacolo è un concorso nazionale con la finale internazionale che si svolgerà a Isola di Caporizzuto in Calabria. Questo evento passa da Gela il 7 agosto alle 21 al Paradisia Park e si divide in due fasce, la fascia junior dai 3 ai 13 anni e la fascia miss dai 16 ai 29 anni. Una giuria di professionisti giudicherà le ragazze. Le cinque finaliste passeranno alla finale regionale che si terrà il 21 agosto a Fiumefreddo con la finale internazionale che si svolgerà a settembre a Isola di Caporizzuto. Presenti alla serata il patron Tonino Galli, il direttore creativo Diego Tedesco e il responsabile di segreteria Michele Delluti. Questo concorso si affianca a VEV, la classica scarpetta rossa, che è la campagna contro la violenza sulle donne e alla finale verrà regalata sotto forma di gioiello a tutte le finaliste che arriveranno a Isola di Caporizzuto. Attenzioniamo anche Macchitella con un evento di moda importante. La selezione è la prima volta che è qui a Gela e spero che i cittadini numerosi partecipino a questa manifestazione, a questo spettacolo che arricchisce l'estate gelese.